Pareggio da non disprezzare quello ottenuto dalla Pistoese contro l'Arezzo, anzi, il punto consente agli arancioni di muovere la classifica, di guadagnare ancora qualcosa sulla zona a rischio e di rimanere in corsa per un posto playoff. Inoltre, per come si era messo il derby, squadra di Pancaro in svantaggio dopo appena 55 secondi e contro una formazione amaranto in un buon momento, poteva andare anche peggio. Un punto importante sicuramente per la classifica. Sì, sicuramente oggi era una partita tosta, abbiamo combattuto come sempre, siamo riusciti a portare a casa questo pareggio, anche se l'obiettivo era comunque la vittoria. Però per come si era messo alla fine ci teniamo stretto questo punto, peccato perché c'è stato annullato un gol che non so se fosse regolare o no e per poco alla fine dopo non veniamo puniti su un'azione dove c'era fallo su di me, però l'arbitro non è stato di questo avviso. Non deve essere assolutamente un alibi, però le assenze oggi hanno pesato. Sì, sicuramente, però comunque chi ha giocato si è fatto trovare pronto e questo dimostra che ci stiamo sempre allenando bene. Una domenica abbastanza tranquilla per te, strano. Ti avevi abituato a prestazioni miracolose, la difesa sta crescendo. Sì, sì, stiamo crescendo come squadra anche a livello difensivo e dobbiamo far sempre meglio perché più partite senza subire i gol si fanno, meglio è per la classifica soprattutto.